Ci stiamo con Giovanni De Grazia oggi avvicinando al mondo del nuoto paralimpico, per noi è un onore e un piacere e in bocca al lupo di cuore per questa avventura giornalistica e speriamo di poter riempire le pagine del vostro giornale con risultati e grandi soddisfazioni per noi e per voi. In bocca al lupo di cuore.